Inizia una nuova settimana per la Virtus Francavilla caratterizzata da importanti novità. Sono gli ultimi giorni in Puglia per i ragazzi di Mister Taurino che giovedì arriveranno a Palena in Abruzzo, sede del ritiro degli Imperiali, dove ci resteranno fino all'11 agosto. Intanto nella giornata di ieri si è svolta la prima sgambata della stagione, una partitella in famiglia dove il tecnico originario di Trepuzzi ha avuto modo di testare le prime novità tattiche per gli Imperiali. Intanto la partenza di Federico Vasquez ha fatto sì che i Biancazzurri si muovessero anche sul fronte calciomercato, dove adesso si va alla ricerca di un abile sostituto lì in avanti. Non soltanto attacco però, perché la Virtus Francavilla vuole piazzare un colpo da 90 anche e soprattutto in difesa. Questa può essere la settimana decisiva infatti per Ciccio Cosenza. La società biancazzurra sta valutando anche diverse alternative all'ex centrale del Lecce, però ha bisogno di stringere i tempi ed ha rettaulito il difensore di esperienza tanto inseguito in queste settimane di mercato. Cosenza non rientra più nei piani dell'Alessandria, una prima proposta del club di via Quinto Ennio l'ha già ricevuta e adesso deve sciogliere le riserve e dare una risposta definitiva.